Quando Arason One ha sbagliato la battuta si sono sentiti degli ululati che sono durati non so quanto, 5-10 secondi dal pubblico, dal settore del nostro pubblico. Ululati indubbiamente contro Martins Arason One, centrale nigeriano di Ravenna. Ululati di matrice razzista, obiettano in molti, lo pensano i tifosi di Ravenna, lo scrive la stampa. Di certo, il giorno dopo a Grottazzolina non è un giorno qualsiasi. Chi l'ha fatto si prende la propria colpa, non penso che bisogna fare di tutta l'erba un fascio. Michele Fedrizi, schiacciatore di Grottazzolina con Arason One ha giocato insieme fino a un paio di anni fa. Ho avuto modo di parlare con Martins a fine partita e ovviamente mi sono scusato da parte nostra. La Juasa Battery, Grottazzolina ha subito condannato il gesto con un comunicato, condanna Flash in diretta tv di coach Ortenzi, mentre la Concert, al canto suo, minaccia di uscire dal campo se dovesse ripetersi una situazione analoga. Domenica prossima Grottazzolina arriva il Siena, secondo in classifica parte dell'incasso sarà devoluto. In beneficenza, decisione presa da tempo, sul campo gli arbitri si sono parlati ma non hanno interrotto il match. Sugli ululati si aspetta il referto del giudice sportivo. Siamo molto concentrati sul fatto che la nostra attività non viene rappresentata da questo singolo episodio.